Buonasera, buonasera da Sanni per passare la malinconia e che cosa fa la Sanni? Andate a fare un po' di spesa da cinese, noi donne quando abbiamo quei momenti tristi facciamo un po' di spesa, andiamo a comprare in genere, il famoso shopping delle donne guardiamo che cosa ho preso, ho preso questo qui, il rio Melaseto che sinceramente non l'ho mai preso perché lo smaccacciaio mi faceva male in genere pulisco con lo chanticleer, lo smaccacciaio mi aveva fatto male che è troppo forte ora proverò questo, serve per le mattonelle, per il lavandino, per l'acquaio, più che altro il fornello vediamo, poi ho preso il salvacolori della Liabel che in genere funziona abbastanza bene per proteggere i colori della lavatrice e poi vediamo che cosa ho preso che cosa ho preso, il pezzo forte, sono questo facciamo veloce perché ho pochissima memoria le ciabattine per casa del due mele è il numero 38 lo provo con voi in diretta perché quell'altra parte mi erano rotti, guardiamo un po' se mi stanno uno e due come vi sembra andiamo in piedi camminiamo mi stanno bene vedete guardate come brillano si sta morbidi, si sta bene 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 ok, sono contenta via aiuto, ora casco perché sono attaccati lo provate con voi tutte sbellucicose, tutte bucciose e un saluto da Sunny Flower oltre le bucciose rie ciao ciao ciao, un bacio a tutti